Ciao, ciao a tutti. Durante una riunione molto interessante con un manager di un'azienda multi utility dove mi ha raccontato come hanno cambiato il sistema di pagamento dal bollettino cartaceo al QR code e il pagamento tramite l'app, abbiamo condiviso questa frase che oggi voglio condividere anche con voi. Non dobbiamo aspettare l'occasione giusta, dobbiamo crearla. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, così discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.